Boom di richieste per le barriere in plexiglass. Molte aziende si stanno riconvertendo per produrre questi schermi di sicurezza. Fabrizio Patti. Un futuro di plexiglass. Se i divisori in spiaggia sono già stati derubricati a Butad, la nuova normalità sarà assegnata dalle barriere protettive. Hanno cominciato farmacie e supermercati, stanno seguendo uffici e ristoranti. Alcune aziende hanno colto al volo l'occasione. Siamo a Cambiago, Milano. In 30 giorni questa società che allestisce Stand ha sviluppato una divisione ad hoc. Già 450 gli ambienti allestiti. Appena firmato un accordo con Confcommercio Milano e Nazionale per installazioni nei negozi. Ci saranno decine di migliaia di esercenti che avranno bisogno. Siamo partiti dal farmacista. Oggi parliamo di edicolanti, di commercianti, di panettieri, di ristoranti, di grandi fabbriche. Scongiurata la cassa integrazione per i 105 operai.